Ci troviamo nel cuore dei Chianti Classico al castello di Fonterutoli, storica proprietà della famiglia Mazzei. Siamo qui con l'Apo Mazzei che si occupa di marketing e delle vendite d'Italia. Da quanto tempo la famiglia Mazzei produce vino in questa tenuta? La famiglia Mazzei produce vino in questa tenuta dal 1435. La nostra storia con il vino comincia prima dell'arrivo nella tenuta ai Fonterutoli, grazie a Serlapo Mazzei che alla fine del 1300 ha creato uno dei primi documenti ufficiali in cui si registra la terminologia Chianti. La Marchesi Mazzei è quindi una delle più antiche e anche più prestigiose aziende vitivinicole toscane, con una grande attenzione alla ricerca e alla sperimentazione. In che modo l'innovazione sostiene e valorizza questa lunga tradizione? L'innovazione è fondamentale per sostenere una lunga tradizione. Io ho l'onore e la fortuna di rappresentare la venticinquesima generazione, ma ad oggi, quando si parla della nostra azienda, stiamo molto in ricerca e innovazione. L'abbiamo fatto sia dal punto di vista delle strutture, come è la nostra cantina inaugurata nel 2007, sia dal punto di vista della ricerca, nelle varietà, in particolare nelle varietà di San Giovese. Tutto questo ci è concesso farlo grazie a un'esperienza secolare che abbiamo maturato grazie alla tradizione. A proposito di sperimentazione, tra i prodotti della vostra produzione c'è in curiosità in modo particolare il Mix 36. Ci spieghi di cosa si tratta? Il Mix 36 è esattamente quel prodotto che più di tutti gli altri riassume storia, tradizione ed innovazione. Si tratta di 36 biotipi diversi di San Giovese, di cui 18 provengono da ricerche e sviluppate in collaborazione con varie università e quindi sono esclusivi dell'azienda Castello di Fonterutoli e sono questi 36 biotipi che ad oggi ci permettono di creare dei prodotti a base San Giovese unici per caratteristiche. Siamo in grado di realizzare il Mix 36, ne è l'icona, blend di San Giovese. E da consumatore di vino invece cosa vorresti che un'enoteca online ti desse in più rispetto a un'enoteca tradizionale? Mi piacerebbe molto, visto che gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione lo permettono, avere la possibilità di essere guidato durante l'acquisto all'interno di una piattaforma online, di un'enoteca online. Visto che la scelta è sempre più vasta e sempre più complessa, è molto importante che si possa essere guidati. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.